Forse si pensa da volte che siamo estremisti, non è vero, abbiamo solo fatto un piccolo laboratorio molto semplice dove si assaggia ad ammigliorare le cose. Può essere il riscaldamento, le sorse di energie, risparmio di energie, efficienza, traffico, riduzione. Penso ogni mese quanti soldi risparmio con non avere una macchina. Io so che non sarà possibile copiare il nostro sistema perché non abbiamo avuto un sistema. Per me il movimento ecologico è niente altro che il progresso. È un vicino molto bello e vivente per vivere con i bambini e con molti altri gentili. Ci vediamo come possiamo mantenere una buona vita sociale e fare qualcosa per ovviamente. Io sono attiva nella società di cittadinanza e un po' di vita culturale qui e per me non credo che questo è un esperimento. Io credo che questo è stato fatto e è un paradigma No, noi possiamo spiegare, e noi stiamo spiegando, più l'energia, i luci che generano più di energia che consumano. Facciamo questo da Norwego a Brasile e all'interno di Germania, e spero anche in Italia, se volete. Il fatto che è un quartiere ecologico è molto positivo. Cioè i miei bambini possono uscire senza che io dobbia controllare dove vanno. E qui la gente viene per vedere come si può costruire un quartiere con sole o case così. È un quartiere che è colorful, è un quartiere che è mixato, è un quartiere che è totalmente riducato, ed è un quartiere che ha tutto, scuole, kindergarten, cafè, private shops. È sempre il simbolo che le persone non hanno bisogno di separare, hanno bisogno di essere insieme a diverse sociali stagioni. Abbiamo molti cose, e noi stiamo spiegando. Vauban e anche Rieselfeld è un esempio per questo, che si può ridurre e vivere in un livello qualificato stagione. E questo è tutto. Perché se si trattano il vino, ti non prendi un'occhio.